Ragazzi, sto morendo. Guarda qua. Favo arrivare sul sentiero. Guardate che bello. C'era una bella pozza in fondo, ma l'acqua era troppo alta e non riusciva a traversare. Peccato. Vedremo più un sorvedere. Ciao ragazzi, benvenuti in questa avventura di pesca. Allora, oggi sport selvaggio, due lanciagomma, non è la mia pesca. Vediamo come va. Vai, che ci sono tutte queste piante. Devo riuscire a stare più basso possibile. Un roescio lì. Guardalo. Non ho capito se era un pesce o un'incagliata. Non ho capito se era un pesce o un'incagliata. Non ho capito se era un pesce o 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 un pesce. non ho capito se era un pesce o 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 un pesce raffreddiamo bene le mani per non uscionarla hai visto che colori che dirvi ragazzi è successo ben poco poteva andare peggio almeno non abbiamo capottato provato ste gomme non è una pesca però dai una uscita dopo avevo il dubbio ho detto proviamo col rotante ma anche su capace io ma non è uscito niente e boh penso che questo mini video si conclude qua se vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale commentate e come sempre ragazzi carne piegate grandi pescati alla prossima ciao fatti bravi grazie grazie grazie